Cosa ci aspetta? L'anno prossimo faremo i balletti, fra due anni faremo il teatro e la musica e l'anno dopo, nel 2021, faremo di nuovo Euroflora con la partecipazione anche di altri parchi cittadini. Qual è il risultato di cui va più orgoglioso per questa edizione del 2018? Innanzitutto la città di Genova ha fatto vedere che le cose anche difficili, anche complesse si possono fare quando c'è una grande organizzazione e la città di Genova è riuscita a farlo. Questo secondo me è il risultato principale. Grazie.